buongiorno a tutti ragazzi bentornati sulla pixmon sul server di forgotten world allora ragazzuari ho fatto un paio di cose giusto così a livello estetico qua ho fatto questo vedete ho messo un po di quadri ho messo tutta la nostra bacchieca qua sopra vorrei mettere poi quelle della lega pokemon e qua lasciamo così per il momento appena avrò un modo di fare libri con la pelle e tutto riempiremo di libri e basta poi resta un po così giusto per fare un po di scena qua invece dovrò completarlo e ci faremo il diciamo il centro pokemon quindi quando avrò un bel po di dineri ci metteremo quello per curare pokemon e pc quello per gli scambi e cavolate vari diciamo che sarà il nostro centro pokemon personale e il resto rimane così e basta sopra qua ho messo il cotone quindi sono riuscito a prendere il cotone l'ho messo e buona oggi cosa andiamo a fare oggi andiamo a a vedere come funziona la lega pokemon semplice quindi no non blast toys e così così e andiamo alla lega pokemon che è di qua e ci vediamo dopo eccoci qua oddio mio enorme il suo posto che figo che hai fatto però lega pokemon salve non so come funziona allora qui intanto abbiamo va bene la nostra bellissima allora intanto devo scegliere che pokemon usare al posto di questo però no quasi quasi no 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 non lo lascio sono un po bassino però è potrei usare agron che è qualcuno di un po più alto di tutti oppure andiamo con brazi che ne vada via il chat va bene dai proviamo con brazi che vediamo un attimino come va anche perché ripeto non ho idea di come diamine funzioni tutto non si apre ok allora era buggata in pratica e quindi non si apriva niente buttiamoci dentro vediamo un po come funziona perché ma qui c'è il primo forse allora vediamo batti il super 4 e usa il warp proviamo ma secondo me prendiamo schiaffi proprio a non finire proviamo così se giunto fino a qui confido una nota vincente no in realtà mi secondo me massacri di legnate infatti ok 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 c'è fiamme dai dai sono tutti insetti li faccio fuori tutti mi sa mi sa di sì eh osti merda mierda porca putrella e che cazzo e che cazzo sì ok adesso dove devo andare allora intanto andiamo a curare i pokemon vediamo un po medaglia sasso ok ma adesso dove devo andare ok ma adesso dove devo andare allora aspetta eh e usa il warp ok 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 campione 2 proviamo vediamo un po com'è osse ok 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 e allora aspetta andiamo di charizard vediamo ok no me lo fa fuori cazzo vabbè ok usiamo lo ire del Dremel ammazza caduta libera non vale un cacchio andiamo di Raichu non gli faccio niente proviamo dai proviamo questo ok ok è morto anche questo dai un altro in quanti sono merda 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 cazzo nooo ho perso sicuro che ho perso questo non gli fa niente porca puttana e ho perso oh ho perso ok come ci torno a curare i pokemon ok vediamo sono stato un pirla però potevo usare una pozione vediamo se ci riporto no ok ok ragazzi niente la lega pokemon è abbastanza cazzutella quindi devo tir su tutti i pokemon come si deve alzarli bene di livello andare con i pokemon giusti con pozioni e cavolate varie e e basta quindi direi che per oggi è tutto grazie a tutti ciao ciao